Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul mio canale. Oggi farò un video un po' diverso dal solito, che è stato il più impegnativo che io abbia mai fatto, perché si tratta di un video in cui vi faccio vedere una specie di storia in cui c'è una morning routine di una bambola, che è una Barbie, dove ho fatto tutti i suoi movimenti facendo dei piccoli video di pochi secondi, alcuni anche di un solo secondo. E adesso vi lascio al video. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.